E' sempre piacere poi condividere dei percorsi che uno porta avanti con tenace, a volte sembra in solitudine, ma poi sappiamo invece che siamo una rete ben strutturata anche di confronto e di dialogo. La Regia di Caserta di per sé è una realtà molto complessa che è nata con una dimensione ambientale che pone già delle questioni oggi non più sottovatultabili rispetto alla sostenibilità. Siamo un ecosistema territoriale, oltre che un paesaggio culturale che segna fortemente il territorio. Dico questo perché gestire i 123 ettari di parco, i 73 ettari di bosco più l'acquedotto Cariolino di per sé abbiamo già delle risorse importanti che ci pongono di fronte a delle questioni di responsabilità non indifferenti. Però mi soffermerai sul fatto che la sostenibilità è un fatto quotidiano, è un po' come l'accessibilità. Per noi sono le due cartine tornasole, anzi aggiungerei anche la terza di sicurezza, accessibilità, sostenibilità e sicurezza con cui noi stiamo tentando di mettere in campo ogni nostra azione e valutare ogni nostra azione, quasi come se fosse, anzi secondo me deve essere una forma culturale che permea ogni azione. Poi è chiaro che ci sono delle situazioni di quotidianità che sono il nostro modo di essere e gestire il patrimonio, quindi abbassare i costi, fare in modo con ordini di servizio che ci sia un atteggiamento culturale. Questo mi soffermerai sul fatto che noi facciamo tanto come musei rispetto alla comunità esterna ma tutto deve partire da noi. Il processo importante che la Regia di Caserta sta attivando è all'interno di una pubblica amministrazione che è al servizio del cittadino e che deve avere questo atteggiamento di sostenibilità in ogni propria azione di gestione, lo dico perché io ho problemi proprio di cultura interna nel far capire che la gestione dei rifiuti, su come noi buttiamo i rifiuti all'interno degli uffici ha un valore anche verso l'esterno e quindi la grande fatica che io in questo momento sto vivendo è più un cambiamento culturale di mentalità all'interno della nostra struttura. Però poi ci sono anche dei progetti estremamente importanti che stiamo portando avanti dove per me la questione più importante oggi è il rapporto con il privato inteso sì come unità ma intesa come impresa. Allora tra le tante attività che sono poi tipiche di un museo quindi quelle più strettamente educative quando sono caduti e anche diciamo così di produzione culturale quando sono stati abbattuti nel 2019 per evidentemente cambiamenti climatici che ci stanno sfregiando continuamente abbiamo dovuto gestire le 70 alberature è normale che lo abbiamo fatto anche pensando non solo alla trasformazione energetica di quel legno con il cippato attraverso chi andava a portare via queste alberature ma anche con delle operazioni culturali attraverso la trasformazione in arte di quello che era una risorsa naturale. Questi però sono gli aspetti che io dico sono più semplici che permiano il nostro modo di essere. Invece oggi mi interessa molto per la reggia di Caserta affrontare il tema primo della grande trasformazione che sta avvenendo nei nostri ambienti questo significa grandissimi lavori con materiali di rifiuti non indifferenti sia perché dobbiamo svuotare tutti questi ambienti sto parlando di circa oltre 123.000 metri quadri di realtà che noi stiamo svuotando e che troviamo rifiuti dappertutto. Allora su questo è nata una grande attenzione per questo aspetto con un progetto speciale che è il patrimonio nelle tue mani con il CONAI quindi questo consorzio che sta sviluppando tutta una campagna abbiamo fatto un accordo, una campagna di educazione alla differenziata molto puntuale ma nello stesso tempo che il progetto a cui tengo di più alla trasformazione di questi rifiuti in materiali, come posso dire materiali veri e propri, una seconda vita noi parliamo molto di seconda vita alla reggia di Caserta le arance che vengono raccolte e vengono poi trasformate in marmellate dall'associazione che si occupa di donne vittime di violenza in beni confiscati dalla mafia e questa è una seconda vita però adesso stiamo proprio sperimentando la trasformazione di tutto il cimpato proprio in questo momento stanno producendo delle teche con materiali polimeri che vedono miscelato intorno il legno così come tutto quello che stiamo togliendo dalle pareti o il vecchio materiale di cotto chiaramente non quello storico lo stiamo rielaborando per fare dell'astrame che poi sono i bagni piuttosto che i pavimenti piuttosto che altri prodotti è una fase molto sperimentale la stiamo sperimentando con un'impresa però è estremamente interessante perché per noi in questa grandissima dimensione e gestione dei rifiuti il problema della materia di come viene portata, allontanata la materia per me è un aspetto importante perché significa che altrove verrà ammucchiata diciamo così brutalmente però invece devo capire in che modo questa seconda vita lo stiamo facendo anche con gli allestimenti i tessuti che hanno coperto le pareti dell'ultima mostra sono anche questi oggetto di una rielaborazione per nuova produzione e quindi questo è un filone di lavoro su cui tanto ci stiamo spendendo perché sta uscendo fuori anche attraverso un rapporto di sperimentazione con le imprese così come le imprese per me è importante in questo momento come reggia di Caserta riconoscere anche un'identità produttiva che è quella storica essendo una reale delizia che ha fatto della produttività borbonica un elemento caratterizzante quindi per me oggi significa ritornare ad essere corte luogo di dialogo, di confronto ma anche luogo di sperimentazione di produttività innovativa proprio ieri si è concluso il bando per il progetto Semi il primo bando che abbiamo fatto all'interno di questa iniziativa più generale che è Sviluppo e Meraviglia d'Impresa che è l'acronimo di Semi e proprio sperimentando i 151 il partenariato speciale in questo caso con la possibilità di gestire l'area delle serre circa 8.000 metri quadri più le vecchie serre borboniche per produrre piante secondo i cataloghi dell'Ottocento però innestando anche lì tutto un processo di conoscenza legato al fatto di come queste piante a volte non sono più esistenti sono specie in estinzione o viceversa in questo poi Michele è anche più serrato di me o viceversa invece c'è il grande problema della banca dei Semi di come possono essere prodotte queste piante tenendo presente la trasformazione il cambiamento climatico dico questo perché questa attenzione alla sostenibilità che noi insisto stiamo sviluppando in mille modi diversi ogni nostra azione è legata al tema della responsabilità del nostro patrimonio dei costi del nostro patrimonio e del processo educativo che la nostra gestione può avere mette al centro proprio il privato un privato d'impresa un privato che non solo lavora per un discorso reputazionale importantissimo ma anche per sperimentare con un occhio forse più aperto più visionario e credo molto che il museo e soprattutto la Regia di Caserta è il nostro slogan una grande visione fonte di ispirazione di sperimentare come queste problematiche tipiche di una gestione come quella della Regia di Caserta possono essere opportunità di crescita e anche di innovazione tecnologica cosa che era un tempo anche nel momento in cui la Regia fu realizzata ad oggi per esempio mi si pone il grande problema noi con il PNRR della gestione del bosco quindi un abbattimento spaventoso di piante spaventoso stiamo parlando di migliaia di alberi con un problema non indifferente di trasporto di quello che è il materiale di risulta lo dico perché quando noi pensiamo a tutta questa grande trasformazione nei nostri cantieri i cantieri oltre che costruiscono distruggono e ciò che viene dalla distruzione deve essere oggetto di grande attenzione perché è il grande tema se pensiamo che ci sono isole fatte di plastica o montagne fatte di rifiuti e oggi questo problema della gestione di questo verde spero che possa essere anche visto con un'innovazione diversa come energia che noi possiamo mettere in campo ciò vuol dire il processo di trasformazione il processo di stoccaggio il processo di allontanamento e quindi la creazione quel goal numero 9 mi sembra per noi è uno degli elementi sembrerà strano ma per la reggia di Caserta più che il goal 4 vale molto di più il goal 4 l'obiettivo 9 e l'obiettivo 11 obiettivo 11 perché anche tutto quello che fa la reggia di Caserta è al centro di un territorio ha una dimensione di credibilità non indifferente e di in qualche modo di contagio per una modalità diversa noi adesso stiamo anche lavorando su tutto il restauro del perimetro perché vogliamo che quel perimetro non sia confine ma sia la luce che in qualche modo possa trasmettersi all'esterno anche lo stesso progetto dei passionisti arte e design che vuole creare un hub culturale è rivolto al lato ovest del territorio Casagiove per far sì che da lì poi si sviluppino piste ciclabili i parcheggi le aree verdi quindi credo che la reggia di Caserta come molte altre musei sia una grande opportunità non solo di gestione delle collezioni diciamo così tradizionali ma di enorme ricerca sperimentazione innovazione e poi collaborazione e cooperazione con un mondo che è aperto verso il futuro e che spesso e volentieri deve trovare questo elemento di reputazione che poi può dire che il privato è un privato sano e la collaborazione pubblico privato è quello che mette al centro l'essere umano all'interno di una società noi facciamo parte di una società quindi non c'è una distinzione tra una società giusta perché pubblica e una società svegliata perché privato ma quanto più noi lavoreremo insieme per trovare un'armonia nel modo con cui noi facciamo le cose guardando al futuro credo che sia risultato migliore che come musei possiamo avere come istituzione grazie grazie veramente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti